Francesco è pronto viene a mangiare sbrigati sì 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 ma finisco questo gioco qua faccio un livello così tanto ci metterò poco e arrivo a mangiare ok eh sì io detesto quei due sul server reddits e sinergo vi detesto se mai vedrete questo video sappiate che vi detesto ho appena finito di giocare il primo livello del vostro damatissimo gioco è veramente io non io l'ho visto in passato da qualche altro youtubers ma non pensavo fosse questi livelli di sclero cioè siete veramente due bastardi ve lo dico guardate con tutto il cuore veramente io non so che dire cioè ragazzi io mi scuso anche con tutti quanti voi so che siete abituati a non sentirmi dire parolacce o precazioni varie ma ragazzi credetemi non ce l'ho fatta quindi ora vi lascio al video nel quale ho provato a superare il primo livello di questo gioco qui che è veramente uno dei giochi più bastardi che abbia mai fatto e mi scuso anticipatamente per tutte le parolacce che sentirete ma ragazzi mi sono innervosito e non ce l'ho fatta e comunque saluto quei due sul server se mai vedranno questo video ovviamente il mio video e testo è a livello simpatico è solo per quanto riguarda il gioco in realtà vi seguo e vi stimo e vi rispetto come youtubers perché come persone non vi conosco però per quanto riguarda il gioco che possiate essere veramente dannati perché mi avete fatto sclerare ok ragazzi vi lascio comunque al video del gioco di quei due bastardi sul server buona visione ciao a tutti i gamers e benvenuti nel video random del sabato oggi ho deciso di portarvi questo gioco qui che serve a quei due bastardi sul server ragazzi l'ho visto da altri youtubers e ho deciso di farlo anch'io allora jump w left avevo già visto right di destra con la di sinistra con la e salto no fregna di mamita la fregna di mamita vabbè ragazzi l'ho visto soltanto una volta da altri youtubers non ci ho mai giocato quindi il tempo che mi abituo mi ricordo soltanto ragazzi che un gioco molto bastardo allora reddits double jump ma ma non suggerito loro di ragazzi si parte subito subito male cioè mi suggeriscono di saltare poi ci sono proprio due bastardi è nostro cazzo che è un salto allora change player space a ecco qui passiamo a sinergo risulta allora sinergo reddash double a siccome l'ho visto nei video cat mario vaffanculo allora per fondarsi ragazzi perché bisogna fare ecco qua ok che ragazzi presto no qua bisogna fare così ok soprattutto di abilità niente di difficile per il momento la combina double jump and dash to reach the checkpoint quindi bisogna combinare il doppio salto di reddits con che bastardi guardate avete visto ok ragazzi sì ce l'ho fatta primo checkpoint preso per ora ragazzi per ora nessun problema tranne ogni tanto sto cazzo di cat mario qui c'è che succede no ma vaffanculo va continuiamo no no non ne appaiono altri proviamo no no cioè ho pazienza messi giochini qui sclero facilmente si ce l'ho fatta allora ragazzi quasi può andare su o giù io direi che giù una trappola quindi andiamo su che è quello che so lì no ragazzi c'è cavallo pazzo che non so fa da guardia qui c'è cat mario prendetelo nel culo ok no allora ragazzi provo con calma no ragazzi è una trappola che bastardi no ma lei si la fregna di mamita si proviamo la fregna di mamita allora facciamo così ma no ma dai ma vaffanculo ragazzi proviamo a fare sta cosa qui vediamo ecco qua ok ragazzi da sopra c'è il checkpoint e ce l'ho fatta ragazzi secondo checkpoint preso ragazzi qua già non mi piace ma dai ma che bastardi non bastano sticosi come pure sta attento che ce l'ho fatto perché c'è qualcosa di ragazzi calma sangue freddo no ma doma vaffanculo vaffanculo di tutto cuore quindi sul server ma siete due bastardi ragazzi quando rifare penso la stessa cosa doppio salto combinato che bastardi meno male ragazzi ma non mi fido si c'è poi preso c'è poi preso ragazzi checkpoint preso oh è qua come faccio ok facciamo di scendere mannaggia al cazzo mannaggia al cazzo lo dico io mannaggia al cazzo ragazzi lo c'è una merda la sopra che do mannaggia al cazzo lo dico io mannaggia no ma che bastardo ragazzi inizia a diventare difficile sì non so come ce l'ho fatta non so come ragazzi non chiedete ma ce l'ho fatta ecco qua ma che ragazzi inizia a sclerare sono iniziando a sclerare 36 morti ecco qua e di qualcosa non mi fido c'è qua dove anche fare attenzione a due salto tra l'altro quindi no ma no ragazzi non ci credo no ragazzi non ci credo non è non è vero questa cosa qui è uno scherzo ecco bisogna aspettare o no no che bastardi no 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 che bastardi che bastardi no 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 non ci credo no 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 ti prego no non è vero no no ragazzi difficilissimo però l'altra merda sta sempre giù che bisogna cercarla di prendere dai cazzo no sì sì grazie dio ce l'ho fatta ragazzi ce l'ho fatta si è ringraziato il signore ho preso un altro checkpoint o merda poi ragazzi ho finito il livello ho finito il livello presumo no ragazzi ho finito il livello si è buggato non dite mi che devo rifare tutto ah no 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 ragazzi no aspettate è uscito la lettera c sì ragazzi ho finito il primo livello sì Grazie a tutti. Grazie a tutti.